Il servizio della profezia, capite? Cioè mettersi di fronte a un mondo desideroso di soluzioni e spaventato dalle visioni del presente, mettersi al servizio per dare una chiave di lettura, un'interpretazione, una soluzione possibile alla salvezza. Perché, vedete, noi spesso torniamo sul tema dell'evangelizzazione, della presenza della Chiesa nel mondo e diciamo sì, la Chiesa deve portare il suo messaggio, puntiamo tantissimo sulla diffusione del Vangelo, dico, va bene. Però l'evangelizzazione non è propaganda religiosa, l'evangelizzazione è soprattutto testimonianza, perché soltanto un messaggio testimoniato e vissuto in prima persona può essere convincente, altrimenti parliamo soltanto di argomenti, no? Cioè cerchiamo di interessare le persone magari argomenti che non gli interessano affatto. Buonasera, anzi, bella a tutti dal prof, e spero che stiate tutti bene, anzi, più che bene. Se mi volete bene, mettete il like, altrimenti se mi volete male, pazienza. Oggi continuiamo la lettura di Genesi, però ci soffermiamo di nuovo sul capitolo 41, perché l'altra volta vi ho fatto una introduzione, diciamo, generale a questa sezione del racconto, però merita ancora qualche approfondimento che vorrei fare con voi, e di questo, insomma, parleremo questa sera. Allora, capitolo 41, lo rileggiamo, questa volta non nella versione della Chiesa, ma lo rileggiamo appunto nella versione del commentario delle Paoline. Allora, ora, al termine di due anni, il faraone fece un sogno, ecco, e gli stava presso il Nilo. La carestia si nasprì nella terra d'Egitto, così, da tutti i territori venivano in Egitto, per comprare grano da Giuseppe, perché la carestia si naspriva in tutti i territori. Avete notato che questa traduzione rispetto a quella della Chiesa, che pure è corretta, no? Cioè, non ci sono, secondo me, ormai è difficile imbattersi in traduzioni sbagliate, ma avete notato come questa seconda traduzione che abbiamo letto è più aderente alla musicalità anche del... Non so come spiegarlo, perché non è neanche corretto dire la musicalità, perché la lingua ebraica suona un modo molto diverso dalla lingua italiana. Il ritmo, il ritmo della narrazione e l'uso delle parole molto, molto concrete e delle frasi cerca, insomma, di imitare proprio l'incedere, quasi la metrica del testo ebraico. Ed è una cosa che, insomma, fa piacere anche, soprattutto per chi ha un po' più il privilegio di conoscere o di poter leggere il testo originale. Credo, insomma, che questo sia molto gratificante. In ogni caso, testo originale o no, come vi ho detto più volte, una traduzione diversa fa risuonare in modo diverso nella nostra mente, nel nostro cuore, la parola che leggiamo. Perché uno dei rischi è quello dell'abitudine, quindi che lo stesso testo risuoni sempre lo stesso modo e quindi ci impedisca, no? Se vogliamo, di vedere le stesse cose sotto un'angolazione diversa, che poi, se volete, è esattamente tutta la pratica dell'interpretazione. Invece, leggere il testo in altre lingue o leggere traduzioni diverse anche nella stessa lingua, secondo me ci aiuta ad acquisire quella elasticità spirituale che poi ci rende anche più elastici mentalmente, quindi anche più capaci di cogliere altre sfumature di significato. In questo capitolo 41 tutto ruota intorno alla presenza di Giuseppe nella corte del Faraone. E come questa presenza faccia la differenza rispetto alla corte stessa, ma anche rispetto a tutto il destino di un popolo, e non soltanto del popolo egiziano. In qualche modo è come se qui si ripresentasse quella vena che sia profetica, sia anche, diciamo, portatrice di benedizione, che è appunto la stirpe di Giacobbe, la stirpe di Abramo. Ricordate, ad Abramo è stata fatta la promessa, no? In te si daranno benedette tutte le nazioni della terra. Quindi c'è un solco tracciato in questa storia portatore di benessere e di prosperità. Così come Abramo porta in sé questa prosperità, la porta proprio in grembo, perché lui avrà appunto una discendenza che sarà più numerosa delle stelle del cielo, della sabbia del mare. La Bibbia sottolinea molto questa fecondità, questa prosperità. E ricordate come questa prosperità passa attraverso il disacco e raggiunge Giacobbe, no? E tutti e tre questi personaggi, soprattutto Abramo e Giacobbe, per la verità, passano attraverso tante peripezie nelle quali, nonostante le prove, prevale sempre questa potenza della benedizione divina. Ora qui, se volete, questa benedizione comincia a vedersi nei suoi effetti, proprio per gli altri popoli, perché questa pagina è sicuramente parte di una costruzione narrativa molto efficace che ci prepara a quello che verrà dopo. Cioè affinché, appunto, Giacobbe e quindi il popolo di Israele, quello che è il nascente, il germe del popolo di Israele, che sono i figli di Giacobbe con le loro famiglie, perché loro si salvino, occorre che Giuseppe faccia carriera. Eppure essendo passato anche lui attraverso prove terribili, il tradimento degli stessi fratelli, la schiavitù, l'accusa ingiusta, il carcere, ora vediamo che tutto questo comincia a portare degli effetti, a condurre delle conseguenze, degli effetti che vanno oltre le intenzioni umane. Cioè gli esseri umani mettono un'intenzione nelle cose, ma indipendentemente dalle loro intenzioni Dio costruisce, cucendo insieme, tessendo insieme la trama di tutti questi intenti, di tutti questi fatti, costruisce una realtà, una storia che segue invece le sue intenzioni, che procede verso le sue promesse. Allora Giuseppe è alla corte del faraone e si parte da questo famoso sogno. Allora, in realtà i sogni sono due e sono perfettamente simmetrici. Al centro di questi sogni c'è l'idea che in qualche modo è vero che il farone è più vicino al divino, alla divinità. E qui vediamo come la cultura egiziana sia stata in parte anche assimilata e recepita dalla cultura ebraica. Quando si parla di Egitto nella Bibbia non dobbiamo immaginare l'Egitto delle epoche più remote, insomma l'Egitto delle piramidi, l'Egitto che gli ebrei hanno sperimentato soprattutto attraverso l'esperienza della diaspora, attraverso il fatto che si sono trovati dispersi dopo la caduta di Gerusalemme e l'Egitto che hanno sperimentato in tutto quel periodo che noi chiamiamo del Secondo Tempio, che quindi dall'esilio al post-esilio è anche il periodo storico in cui, abbiamo detto più volte, prende forma la Bibbia così come la conosciamo adesso, almeno per la maggior parte dei testi. Allora, questo Egitto qui è un Egitto già molto tardo, eppure ci sono dei dettagli e delle informazioni che testimoniano che questo contatto è stato reale, un contatto che ha lasciato profondamente il segno negli scritti della Bibbia, così come ha lasciato profondamente il segno la cultura babilonese. Ecco, ricordiamocela, no? Quindi l'Israele antico era un piccolo paese pressato fra due grandi potenze, una che appunto prosperava sulle rive della Valle del Nilo, e dall'altra parte invece le grandi civiltà mesopotamiche, quindi dagli assieri, i babilonesi, poi i persiani. Ecco, queste due culture, grandi culture, anche molto complesse, molto articolate nel tempo, quindi vi ripeto, non dobbiamo immaginare fare una foto di un antico Egitto semplice. In realtà la storia dell'antico Egitto è molto complessa, molto lunga, è una civiltà che è durata millenni, millenni, insomma, non stiamo parlando di singoli eventi, stiamo parlando di una catena di eventi lunghissima, di una storia molto ricca e complessa, anche di una cultura che si è evoluta con il tempo. E la stessa cosa per la cultura mesopotamica. Ecco, Israele recepisce strutture, miti, leggende, simboli, da una parte e dall'altra, e li rielabora secondo anche una propria visione delle cose. E come abbiamo detto, questa propria visione è incentrata tutta intorno all'idea dell'unico Dio che guida la storia di questo popolo e lo conduce verso la salvezza. Allora, io ho detto, il sogno viene raccontato due volte, ma, cioè, ci sono due sogni, in realtà sono uno, ma questi due sogni, a loro volta, sono raccontati una seconda volta. Quindi abbiamo una ripetizione, anzi, c'è una ripetizione con ancora più dettagli. C'è il primo racconto, che è un racconto fatto dal narratore, cioè il narratore dice il faraone ha avuto un sogno e descrive il sogno, quindi lo descrive in terza persona. Poi, durante la narrazione, si riprende il sogno e si racconta un'altra volta in prima persona, dalla bocca del faraone. E quando lo fa il faraone, aggiunge a questo racconto ancora più dettagli, il racconto ancora più vivido, più legato all'emozione soggettiva. È una tecnica questa, tipica della Bibbia, cioè la ritroviamo in altre pagine della Bibbia. C'è un racconto che viene fatto prima appunto dal narratore in terza persona con distacco e poi anche in prima persona dal soggetto che ha sperimentato questa cosa. È un esempio famosissimo, è quella del racconto della famosa cosiddetta conversione di Paolo, che in realtà, come più volte abbiamo detto, più che conversione è una vera e propria vocazione. Infatti, Paolo, non è che cambia religione, scopre Gesù Messia risorto. Questo incontro con il Gesù risorto viene raccontato tre volte addirittura negli Atti degli Apostoli, ma viene appunto raccontato la prima volta in terza persona e poi due volte sarà raccontato in prima persona dallo stesso Paolo. Ogni volta che Paolo racconta, aggiunge dettagli diversi. La narrazione si fa, diciamo, più complessa, perché, come giustamente avviene, quando uno racconta in prima persona anche a un pubblico diverso, tocca corde diverse. Questa tecnica narrativa in realtà poi sottolinea una cosa molto semplice, cioè ci troviamo di fronte a un evento di un'importanza gigantesca. Questo sogno del faraone è uno degli eventi fondamentali di Genesi, che non dobbiamo affatto sottovalutare. Non è certo stato merito del faraone, del re d'Egitto, non è stata una sua iniziativa fare dei sogni, ma è stato appunto un dono divino. E in questo senso la figura del faraone associata al divino era, diciamo, il candidato migliore per poter ricevere questo tipo di rivelazione. Del resto, il fatto che Dio parli a chi vuole quando vuole è una cosa costante nel racconto di Genesi, soprattutto. Anche se in altri momenti, in altre pagine della Bibbia, abbiamo anche delle rivelazioni fatte a quelli che non sono ebrei o che appunto sono gentili o pagani, se vogliamo, così definire. Anche questo è un tratto comune che viene ripetuto e ripreso sempre dagli atti degli apostoli. Ci sono anche momenti in cui gli stessi gentili ricevono in qualche modo il messaggio del Vangelo, la Pentecoste, addirittura vengono avvertiti prima che Pietro andrà a visitarli. Quindi c'è all'opera lo Spirito di Dio, ma quando Dio si muove per rivelarsi lo fa ad ampio spettro. Cioè, non è che il popolo di Israele è sicuramente un popolo scelto. Questo è quello che, se volete, è il succo del racconto di Genesi. È scelto perché è scelto Abramo, perché è chiamato Abramo, perché è chiamato Isacco, perché è chiamato Giacobbe, perché Giuseppe vive questa sua vocazione. Ma, nonostante questa elezione, e non è che Dio parla soltanto con i suoi eletti, parla con tutti. Solo che, a un certo momento, non basta che Dio parli, che Dio si riveli. a un certo momento è necessario, come già avevamo accenato l'altra volta, la presenza di un interprete. In questo caso, la presenza di un interprete che sia anche un profeta. E qui scopriamo un elemento fondamentale della profezia, secondo la Bibbia. Il profeta non è tanto quello che riceve visioni, che riceve rivelazioni sul futuro, ma è colui che è capace di interpretarle alla luce del disegno di Dio. Cioè, quello che, fra tutti coloro che possono avere voce in capitolo che sono interpellati per comprendere i segni della natura o i segni di una rivelazione divina o qualunque cosa di strano abbia bisogno di essere interpretato, il profeta biblico lo interpreta alla luce della volontà divina. Cioè, praticamente, è l'unico capace di collegare tutti i punti nel modo giusto e l'unico capace di risolvere i rebus proprio secondo il cuore e l'intenzione di Dio. Quindi, il profeta è qualcuno che legge e interpreta, però lo fa autorevolmente perché lo interpreta nello stesso spirito che si è rivelato alle persone che hanno ricevuto un messaggio. Quindi, il profeta, in questo caso Giuseppe, agisce proprio come profeta a tutti gli effetti. Tra l'altro, in questo senso, Giuseppe è nella tradizione di famiglia. Abramo ha avuto momenti di profezia nei quali appunto ha ricevuto non soltanto un'informazione, quindi il profeta non è quello che riceve informazioni, è anche quello che interpreta questa informazione e anche si prende a cuore il destino di un povero. Ricordate quando Abramo riceve la rivelazione profetica della distruzione di Sodoma e Gomorra, come si prende a cuore gli abitanti di quella città nonostante secondo il racconto non fossero meritevoli di nulla, ma si prende a cuore quella città. Quindi, in questo senso, l'intercessione è profetica. Ricordate lo stesso Giacobbe, che ha rivelazioni sul suo futuro, ma anche lo stesso Dio che parla ad Abramo e gli dice avrai in futuro una discendenza come le stelle del cielo e la sabbia del mare anche quella è una profezia, ma anche nello stesso tempo un'interpretazione di ciò che sta avvenendo. Insomma, Giuseppe si comporta dal profeta perché non soltanto lui stesso aveva ricevuto dei sogni che però erano stati interpretati e ricordati dai fratelli, dal padre. Quando lui sogna non è quel momento in cui diventa profeta. Diventa profeta nel momento in cui sognano gli altri perché caratteristica del profeta appunto non è tanto quello di avere visioni ma di saperle leggere secondo il cuore di Dio. E quindi è profeta anche in un altro livello nel senso che suggerisce immediatamente al faraone la politica economica da adottare per venire incontro a questa profezia, per venire incontro a questa rivelazione perché se Dio rivela qualcosa a qualcuno lo fa per un motivo. Questa storia della profezia biblica però vuole anche non soltanto parlarci del profeta Giuseppe o portare avanti la storia di Giuseppe verso la redenzione dei fratelli ma sotto c'è anche un altro messaggio un messaggio che riguarda la consapevolezza che il popolo di Israele aveva del suo ruolo nei confronti degli altri popoli e anche dei doni che aveva ricevuto nei confronti degli altri popoli. Che cosa intendo dire? Giuseppe è l'unico non è uno degli interpreti possibili è l'unico che ci azzecca veramente è l'unico che ha l'interpretazione giusta del sogno il faraone interpella tutti quelli che poteva interpellare tutte le persone che lui poteva ritenere competenti maghi indovini di corte persone diciamo esperte professionali in questo ambito ma nessuno era riuscito evidentemente a dargli una risposta convincente nessuno riusciva a collegare i punti nel modo giusto il fatto che lo compie Giuseppe non è soltanto la sottolineatura a Giuseppe il più bravo di tutti ma è anche un modo per dire come il dono che è stato fatto attraverso Giuseppe a tutto il popolo che lui rappresenta tutta la stirpe che lui rappresenta è una vocazione alla profezia che il popolo di Israele ha nei confronti di tutta l'umanità e questo deve anche far riflettere l'identità cristiana che ricordatevi è un upgrade dell'identità ebraica upgrade ovviamente dal punto di vista cristiano dal punto di vista ebraico questo upgrade non serve ma per noi cristiani quando ci domandiamo per esempio quale dovrebbe essere il nostro rapporto con il mondo nel libro di Genesi questa risposta c'è ma non soltanto in Genesi adesso vedremo cioè questa del essere chiamati al servizio della profezia il servizio della profezia non è soltanto fare come il profeta Giona Ninive che dove annunciare la distruzione di Ninive quindi fare come si dice oggi i profeti apocalittici non esiste soltanto la profezia apocalittica la profezia che prevede l'imminente fine di tutto convertitevi prima che arrivi l'ira di Dio c'è anche questo nella Bibbia per carità Giona doveva predicare questo anche se poi la storia di Giona ha un twist interessante all'ultimo momento perché poi Dio ci ripensa e la città di Nive non viene distrutta anzi viene addirittura salvata grazie alla predicazione di Giona perché la predicazione di Giona contro le sue stesse intenzioni provoca la conversione inaspettata sorprendente ma dicevo questa riflessione dovremmo farla perché non esiste soltanto la predicazione apocalittica quella che ti dice che se non ti converti morirai o quella che ti dice che morirai comunque anche se ti converti quindi insomma fai i tuoi conti con Dio buonanotte preparati fai testamento insomma perché è arrivata la tua ora ma esiste anche un'altra chiave di lettura la profezia che è molto importante cioè quella del servizio la profezia per la salvezza qui questo sogno dato al faraone è per la salvezza di tutto l'Egitto ma Giuseppe può salvare l'Egitto quindi anziché diciamo inalberarsi o adirarsi o sentire rancore verso coloro che lo tengono schiavo e quindi insomma mandare tutti a morire ammazzati Giuseppe si prende a cuore l'Egitto e dice guarda faraone se tu vuoi salvare il tuo popolo veramente qui serve gente competente che approfitti insomma di questo sogno di questa informazione data in anticipo di questa dritta di Dio che ti permette insomma di puntare sul cavallo giusto in questo caso sulle vacche giuste per salvare il tuo popolo il servizio della profezia capita cioè mettersi di fronte a un mondo desideroso di soluzioni e spaventato dalle visioni del presente mettersi al servizio per dare una chiave di lettura un'interpretazione una soluzione possibile alla salvezza perché vedete noi spesso torniamo sul tema dell'evangelizzazione della presenza della chiesa nel mondo e diciamo sì la chiesa deve portare il suo messaggio puntiamo tantissimo sulla diffusione del vangelo dico va bene però l'evangelizzazione non è propaganda religiosa l'evangelizzazione è soprattutto testimonianza perché soltanto un messaggio testimoniato e vissuto in prima persona può essere convincente altrimenti parliamo soltanto di argomenti no? cioè cerchiamo di interessare le persone magari argomenti che non gli interessano affatto ma se noi invece entriamo nel vivo entriamo nel in quei processi che determinano la salvezza o la non salvezza del mondo in cui viviamo allora lì lì possiamo veramente fare la la differenza magari anche come è successo a Giuseppe magari uno poi verrà dimenticato ma Dio non dimentica e quindi la traccia sulcata da questa testimonianza porta salvezza porta comunque fa comunque la differenza e porta bene porta porta il bene realizza il bene credo che sia questo in realtà quello che dobbiamo fare porci uno spirito di servizio profetico scusate la divagazione però è un tema che mi sta a cuore ultimamente perché sto anche riflettendo sul famoso anniversario che qui a Roma si è celebrato su un convegno che si fece negli anni 70 sui mali di Roma e dagli anni 70 80 in poi che si è quasi vissuto in maniera dicotomica cioè in maniera divisiva una interpretazione della presenza del mondo della Chiesa cioè da una parte c'erano quelli che si davano soltanto al volontariato alla carità al servizio o dei bisognosi e dall'altra invece quelli che dicevano no dobbiamo annunciare il Vangelo queste due cose non sono distinte sono praticamente la stessa cosa sono la stessa cosa il messaggio chiaramente è un messaggio che va detto va esplicitamente raccontato cioè dobbiamo dare come credenti se uno se uno lo è ovviamente la propria chiave di interpretazione del mondo è comunque una visione offerta all'umanità che è diversa dalle narrative diciamo correnti e che comunque ha una sua autorevolezza perché se non altro è consolidata nel tempo anche se va sempre rinnovata perché è sempre diciamo arricchita da esperienze nuove da nuove generazioni che riprendono questa fiaccola della fede e comunque sono chiamate a viverla in un modo completamente diverso in un mondo trasformato rispetto a quello delle generazioni precedenti ma che comunque è quella stessa fiamma è il calore della stessa fiamma è lo stesso tesoro che si è accolto però nello stesso tempo questo diciamo contenuto dicevo questo deposito della fede che non è soltanto il deposito di Zio Paperone non è soltanto quella ricchezza che tu hai in tasca o il conto in banca che hai da parte non è soltanto questa la metafora il deposito della fede è quello che tu raccogli in un fiume che scorre e il risultato di questa cernita di questo filtraggio che il tempo l'esperienza la sofferenza fa e che lascia qualcosa che non muta che non cambia ma che è sempre più prezioso quello è il deposito della fede ma questo deposito appunto si rivela e diventa quest'oro che si può estrarre e offrire al mondo proprio nel momento in cui uno si mette al servizio in cui uno cerca di essere costruttivo viene incontro ai bisogni perché fuori di questo se non siamo anche capaci di dare risposte a tutti i bisogni nessuno ci ascolterà per quanto riguarda i bisogni spirituali saremo soltanto appunto dei pedulanti rompiscatole magari incompresi allora tutto l'Egitto si inginocchia davanti a Giuseppe ma si inginocchia davanti a Giuseppe perché Giuseppe lo salva Giuseppe salva l'Egitto e se volete in un certo senso tutto l'Egitto vedendo la disponibilità e l'intelligenza e la capacità di leggere in profondità le cose di Giuseppe fa un atto di fede in Giuseppe cioè tutto l'Egitto scommette su Giuseppe paradossalmente no? quello che era stato scartato ricordate dai fratelli e disprezzato dai suoi stessi fratelli co-religionari consanguinei viene invece grandemente apprezzato e scoperto dagli estrani da coloro che erano i suoi padroni quelli che lo tenevano schiavo quindi lontani nella lingua nella religione nella cultura loro riconoscono invece il valore di Giuseppe e mettono a disposizione di Giuseppe tutto e qualunque cosa il faraone mette a disposizione tutto il suo potere l'unica cosa che gli impedisce di prostrarsi di Giuseppe è il fatto che lui deve stare sul trono e rappresenta comunque l'Egitto perché se il faraone si prostrasse all'Egitto l'Egitto non sarebbe più Egitto invece l'Egitto mantiene la sua identità mantiene il suo re ma tutto il suo cuore tutta la sua passione tutte le sue forze vengono concentrate nel progetto di Giuseppe pensate a tutto questo per dire che in questa storia di nuovo abbiamo un'immagine della morte e resurrezione di Cristo la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo il fratello scartato dai suoi fratelli diventa la salvezza dell'Egitto e dei suoi fratelli è una grandissima storia questa vi ripeto ci sono altre pagine della Bibbia altri libri della Bibbia che la mettono proprio sulla guerra sull'opposizione sul conflitto lo stesso Esodo è un libro se volete in un certo senso di guerra ma invece il libro della Genesi è un libro che vi ripeto poi tra l'altro è proprio uno degli ultimi libri a essere stati scritti della Bibbia probabilmente anche dello stesso Pentateuco è invece un libro di grande apertura ho detto altre volte ho usato la parola pacifista è un libro effettivamente che cerca di trovare sempre una chiave di salvezza e dovunque invece c'è violenza e c'è ricorso alla forza è sempre fatto con molto dolore con molta sofferenza con molta riluttanza quasi anche da parte di io stesso come una conseguenza inevitabile appunto del peccato e della violenza dell'uomo stesso altrimenti insomma in queste pagine vediamo sempre un Dio che opera per grandi disegni e per la salvezza allora andiamo un attimo al sogno allora abbiamo detto che la ripetizione del sogno è in modo efficace per ribadire l'importanza di questo sogno ma questo sogno che racconta allora ci sono due elementi le vacche e le spighe allora la vacca che sarebbe poi la femmina del manzo per capirci in Egitto è un animale sacro di una grande importanza di singolare valore anche perché diciamo non è tanto un animale sacro non siamo come in India mi sono espresso male ma è associato alla raffigurazione appunto del manzo femmina della vacca la Dea Isis la Dea Isis è una delle idee fondamentali dell'Egitto e in sé questa Dea condensa l'idea della maternità e della fertilità maternità e fertilità e anche del potere benefico del misterioso del divino quindi se volete della magia ma diremmo della magia buona almeno questo secondo gli egizi non ho detto secondo la Bibbia però questa idea vedete filtra in alcuni sui aspetti diciamo più importanti i positivi filtra negli autori biblici quindi l'immagine della vacca non è scelta a caso la vacca prospera è segno appunto di fertilità di prosperità e di una prosperità e una fertilità che sono garantite appunto da un contributo da una grazia divina da un favore divino la stessa cosa per le spighe anche il grano il grano è un grande protagonista dell'Egitto quindi l'immagine appunto delle rive del Nilo piene insomma di coltivazioni di frumento è una delle immagini anche più ricorrenti anche della raffigurazione che gli egiziani facevano di se stessi se vogliamo se dovessimo nell'antichità non esistevano bandiere ma se dovessimo scegliere una bandiera per l'antico Egitto forse dovremmo scegliere proprio l'immagine della mucca delle spighe di grano per capirci questi sono i simboli più forti che sintetizzano i valori dell'Egitto e quindi non è a caso il fatto che ci siano queste sette vacche magre e sette grasse il messaggio è abbastanza chiaro soltanto che appunto le sette vacche poi le sette spighe magre non prosperano dopo essersi divorate appunto le vacche grasse quindi vuol dire che c'è una situazione di appunto di favore divino che è sostituita immediatamente dopo da un momento abbastanza tragico molto molto duro in fondo il sogno letto a posteriori sembra di una chiarezza evidente una fase buona seguita da una fase estremamente negativa dovuta tra l'altro al soffiare del vento d'oriente lo dice in tutte e due le versioni del sogno questo vento d'oriente qui sgamiamo si dice a Roma cioè scopriamo un dettaglio importantissimo e cioè che tutto questo racconto è stato fatto dal punto di vista ebraico evidente perché un egiziano avrebbe detto il vento del sud il vento arido del deserto in palestina scorre da est verso ovest quindi dal tutto oriente perché le grandi zone desertiche sono a est invece in Egitto il vento arido quello che secca che brucia che inaridisce è il vento che viene dal deserto del sud quindi in realtà qui anche se il racconto è ambientato in Egitto si vede che è stato scritto da abitanti invece della palestina e questo è un indizio importante un'altra cosa da sottolineare di questi sogni il fallimento dei maghi di corte e questo ci ricollega anche a testi che leggeremo in seguito quando Mosè si presenta alla corte del faraone si ripete un po' lo stesso copione quindi ci sono anche lì tutti i tecnici tutti i maghi o maggi che sono capaci di fare i più grandi prodigi perché hanno le conoscenze per poterlo fare sono i consulenti tecnici gli scienziati di quel tempo riescono a fare molte cose famose ma a un certo punto si fermano e qui invece è un fallimento totale così come sarà un fallimento totale vedremo tale quasi racconto è quasi paro paro di Daniele alla corte del re di Babilonia dove anche lì c'è un sogno del re e c'è anche un tentativo di interpretazione da parte dei maghi e dei tecnici diciamo così di corte anche lì è un'interpretazione fallimentare come vedete di nuovo si sottolinea questa maggiore capacità questa acutezza e intelligenza particolare particolarmente illuminata che è sicuramente donata a questi individui personaggi Daniele e qui Giuseppe ma che tutto sommato è una consapevolezza che gli autori biblici vogliono estendere a tutto il modo in cui Israele legge e vede la realtà almeno di Israele di come si leggeva e si vedeva in quel tempo perché questo? perché il Dio di Israele il nome che nessuno può pronunciare è di livello superiore a qualunque altro Dio e quindi qui vediamo tutta questa diciamo consapevolezza religiosa che appunto si esprime anche in questi racconti tra l'altro c'è anche un po' di ironia sull'incapacità ammessa dallo stesso faraone non c'è nessuno capace di fare quello che tu chiedi Giuseppe dice bisogna che voi incaricate qualcuno veramente bravo perché metta su tutto un lavoro un lavoro che dura molto tempo di raccolta e quindi di organizzazione di preparazione dopo questi sette anni di grande prosperità economica che possa affrontare i sette anni di crisi in fondo se ci pensate bene ognuno vorrebbe chiunque sta al governo vorrebbe al proprio servizio un Giuseppe che aiuta a affrontare i momenti duri delle crisi economiche anche questo è un tema ricorrente c'è una certa ironia che il farone stesso fa non c'è nessuno se non te appunto non c'è nessuno nel mio popolo neanche io sarei capace di fare questo e ci sei tu e guarda caso guarda caso ci sei proprio tu che Dio ha fatto venire qui tutta questa cosa della carestia come avete capito porta avanti la trama la trama di Giuseppe porta avanti questa straordinaria storia e vedremo appunto nei capitoli successivi come procede questa storia come questa storia si ricollega alla necessità dei fratelli appunto di rivolgersi alla prosperità dell'Egitto ecco qui si capisce che tutta questa narrazione è in funzione di quello che avverrà dopo cioè qui comincia a prendere forma la visione del disegno di Dio ed è un capitolo di transizione però è una transizione ormai chiara verso la salvezza cioè qua già si comincia a vedere come questa carestia nella terra d'Egitto quindi una cosa tremenda in realtà però porti un grande bene ecco c'è il versetto 38 ecco il faraone disse ai suoi servitori potremo noi trovare un uomo come questi in cui sia l'alito di Dio sapete l'alito di Dio in realtà il neves è appunto il respiro di Dio quindi lo spirito di Dio e questa presenza dell'alito di Dio cioè del respiro vitale questo stesso alito ricordate che aveva dato vita ad Adamo e questo stesso alito vitale che darà appunto vita al Gesù risorto e che è l'alito vitale che il Gesù risorto dona ai suoi discepoli come vedete c'è una linea abbastanza precisa qui il faraone riconosce in Giuseppe quell'alito vitale che può salvare tutto il suo popolo l'Egitto e tutti gli altri popoli che avranno avranno bisogno di rivolgersi all'Egitto di riconosce di riconosce di riconosce che per l'Egitto di riconosce di riconosce Grazie a tutti.